Un libro in miniatura, costruito e riempito di poesie di Charlotte Bronte, quando la grande scrittrice inglese aveva solo 13 anni, parte del mondo fantastico che costruì con il fratello Brownwell e le sorelle Emily e Anne. Questo minuscolo libricino è riemerso a New York per i misteriosi meandri del collezionismo, spiega Henry Wessels, libraio presso la libreria antiquaria James Cummins. Si sapeva che esistesse, ma solo recentemente è stato riscoperto e portato sul mercato. Siamo molto contenti. Il libricino era scomparso dalla circolazione intorno al 1916, 80 anni dopo la sua creazione e 60 anni dopo la prematura scomparsa dell'autrice di Jane Eyre, Evil Head. Lo stiamo vendendo per conto di un privato che lo ha trovato chiuso in una busta dentro un libro. Solo per questo è sopravvissuto. È grande come un biglietto da visita, fragilissimo. Bronte lo cucì nel 1829, ci scrisse dentro dieci poesie in un periodo di tre mesi. Nessuna di queste poesie è stata pubblicata finora. I giovani Bronte avevano l'abitudine nel loro rettorato dello Yorkshire, dove crescevano con il padre, di cucire libricini riempiti di scrittura minutissima. Adesso la loro precoce vena creativa riemerge ancora una volta dal passato.